se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla con il video tutorial per recuperare tutte e 10 le zucche e prendere la maschera rara di halloween ragazzi e sbloccare quei due bonus cacati che ci daranno allora vi lascio al video, bella regà ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.